Greninja, noi vogliamo diventare più forti. E se accetterai di lottare contro di noi, sono sicuro che ce la faremo. Significa che ci stai? Allora forza, preparati Lucario! Mi chiedo che genere di lotta sarà. Lucario! A destra! A sinistra! Non l'ho neppure visto. Usa doppio team! Hanno usato doppio team tutte e due! No, Lucario! No, aspetta, Lucario! Si sta mega evolvendo! E va bene! Lucario! Va tutto bene! Dove vai? Greninja! Vai, Ash, ora dovresti correre dietro a Lucario, non credi? Oh no! Greninja sa meglio di me che cosa bisogna fare! Eh? Non credi! Qu'Ninja? Vuoi dire che Greninja e Lucario si assomigliano? Sì, fin dall'inizio sono sempre stati determinati a diventare più forti E questo l'ho percepito molto chiaramente Ma non attraverso le parole Lo sento proprio qui dentro, dritto nel mio cuore